Raga, è il big day! Oggi proviamo la Ranked. Io punto al maestro oggi, anche se è stata difficile, perché mi ricordo che arrivare a maestro è stato molto difficile la prima season, ma è anche vero che nella seconda season ci potrebbero essere meno persone, siamo senza gemme, 10.000 gemme, il like, il sistema della campanellina, ma soprattutto il codice Sparks qui in fondo per supportarmi. Dato che manca un giorno e sei ore, io direi di rinnovare il supporto, perché tanto dura tipo 14 giorni, per tutti e sette giorni, ma per lo Sparksendo, che è un egrieto, un'icona di StumbleGuys, dura 14 giorni. Io direi di iniziare subito con la prima partita, ci sono amici online, invito tutti, poi gli entra e entra e partiamo, non me ne prega niente. Ah, Laser 3, però siamo a livello legno, quindi da maggior parte sono tutti i bot, killiamo l'isola, che ci vuole, dai! Basta che non killiamo i nostri compagni di squadra, i nostri mates, se loro non mi killano a me, sempre! Sperando di no. Via! No, non l'ho preso, porca paletta, ma già stanno, poi lanciano già dadi, banane, di tutto. Dobbiamo stare attenti, bravissimo. Cioè, penso io a prendere quest'alto, non l'ho preso. Scusate, scusate, non andate garci qua. Madonna, questo lo fate volare entrambi. Uno è morto, Alex che è il bot, non muore mai. Alex è mortale, porca paletta, lo manco sempre, ho visto uno che è andato volare. Voleva killarmi, pam, non l'ho preso. E tu? Ma scusate ragazzi, ma non è il fatto di tutto il pugno. Cioè, il volo del pugno è stato nerfatissimo. Ma non volano più. Ma è come il pugno normale adesso. Ma che schifo, scusate, io ho speso tutti quei soldi per niente. E guarda, porca paletta, non fa più danni. No, vabbè ragazzi, non ci credo. Non l'hanno nerfato, l'hanno disabilitato il lancio. Cioè, non esiste più. Ma quello è morto solo. Ah, quando qua muoiono tutti i soldi, vedi, vedi, è rimasto solo 6? O 6? 6? 6 o 7? Chi è? Vai, vai, madonna, ho del pugno al volo. E non è morto. Ma come ha fatto? Vabbè, qua me lo devono far traiardare, porca paletta, veramente, questi traiardini. E mori, porca paletta. Oh, finalmente. Primo punto dello sparsento. Quanti punti abbiamo fatto qua? 150? 200? Non l'abbiamo fatto? Solo 150 punti. E con 150 punti non facciamo manco la prima soglia. Qua ragazzi l'avete amarissima. L'avete amarissima. Sarebbero due partite vinte per andare alla soglia di legno 2. Cioè, ma io pensavo di essere già argento, in pratica, con la partita vinta. Ma scusa, ero campione, la scorsa sisola dovrei avere il boost, no? Ma io non vedo nessun boost qua. La busta è quella che vedo, mi hanno fatto la busta a me che non funziona niente. Vabbè, siamo su laser dash. Qua tanto schiattano tutti. Ma come tutti i gold? Ma scusate, io sono legno. Ma... Ah, ci sarà qualcuno nella mia team che è gold? Vediamo un po' chi. Eh, c'è Jacob. Jacob ha fatto andare che è gold, porca paletta, la Jacob. Annapanina, vieni qua. Oddio, ma mi ha laggato di brutto, raga. Ho rischiato di morire. Forse era la calamita. Comunque mi si muoveva da solo. Vai, afrodite, via. No, i pugni sono forti. Ma prima invece non erano forti. Quindi si sono autofixati, eh. Anna Patatina, vai. Ah, Anna Pantina, non è Anna Patatina. Niente. Sparks Edu. Legge tutto. Oh, Ale no! Ma io non ho fatto sto bodyblock. Tra l'altro pure involontario, perché si vede quando un bodyblock è involontario. Ma porca paletta. Più 100? Ah, però dai. Decimo posto, più 100. Abbiamo fatto 250 e abbiamo fatto la prima, i primi 2000 exp. Boni. Torniamo qua, se non si bugga tutto. Perfetto. Ritorniamo in classificata. Fatti qua probabilmente mi punteranno, sicuro. Già, 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 mi stanno rincorrendo. Porca paletta, addio. Sono morto. Invisibility! Oh! Ma che è stato? Ma dai, ma... Ma io non ne posso più. Ma non ne posso più. Mi bodyblockano sempre per l'invisibilità. Ma sempre involontariamente. Io 25, ho sfregato giubito tutte le cose dei amici. Allora, stavolta siamo su block dash. Dovrebbero essere tutti legno. Infatti, se è così. Dai, eh. Questi qua, me li magno tutti. Non sono, non sono bot. Quelli sono bot. Questi qua che si spiacciono al muro, sono tutti bot. Ma questi qua, tipo, il pinguino qua, come si chiama, il coso. Il pinguino non è bot sicurissimo. Infatti, se riusciamo a killarlo subito, non sarebbe male, perché potrebbe darci fastidio. Riusciamo a killarne uno. Pamma! Bello questo pugno. È piaciuto, ragazzi? Provo a andarmi adesso. Forse il pinguino non riesce. Oh, che cavolo è passato da qua? Che è? Mi è impazzito. Era un pinguino tra iardino, però l'abbiamo killato. Va bene così. Dai, ne è rimasto solo uno. È rimasto pollo. Chicken. Vieni qua, chicken. Pum! No! Ma dai... Sì, è cascato. È cascato. Non ce la fa, non ce la fa, non ce la fa. E cade, cade, la vince lo sparseddo. Subito distrutti quelli a legno. Allora, primo traguardo e secondo traguardo l'abbiamo fatto. E ora passiamo al terzo traguardo, che è quello per arrivare a bronzo. Siamo su... Rush Hour. Ancora ne abbiamo fatto ancora una partita su Rush Hour. Dobbiamo stare attenti. E qua c'è Ruano, che è pericoloso. E dobbiamo killarlo, mi sa. Perché se non lo killiamo è un problema. Oppure... Guarda, guarda, guarda questo. Ma scusa! Ma doveva killare il tizio? Non è morto! Oh, porca paletta come stavo rischiato tantissimo qua io, eh. Non è invisibile, io, eh. Che ne sono rimasti pochissimi. Però... Il punto che voglio fare. Pum! Il supereroe è volato. Stai carmo, stai carmo. Socco di frutta. Qua co-cola. Stai gammetto, Luke. La new cola di Fallout. Guarda, guarda come la tryhard. Lo piglia al volo e lo scaraventa di sotto. Ne rimane uno. Chi? 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 Ah, è il pompiere. Il pompiere. Paura non ne ha. E vedi come piglia Spax se non c'ha paura il pompiere. Sarta, sarta, sarta! Sarta! Me ne vado. Ops! E che è successo, pompiere? Che è successo, pompiere? 125 punti reputazione presi e si vola dritti a bronzo. Prima categoria passata in pochi minuti. E adesso si punta argento. Possiamo potenziare qualcosa. Uh! Siamo a 50 gemme extra. Potrebbe essere la partita del bronzo 2 se la vinciamo. Possiamo riuscirci. Quello mi sembra abbastanza bot. Invece il pinguino e gli altri non proprio bot. Il problema è se uno di loro ha l'esplosione. Il pinguino mi vuole ghillare. Infatti lo chiediamo subito noi e ce lo leviamo via. Non è morto, ragazzi, il pinguino. Ma non ci credo. Ma non ci crederò mai. Ahia! Stunnato. Ma stunnato sta cavolo di banana. Dovemmo stare attenti. Scusa Francis, ma meno siamo, meglio è. Ci sono troppi pinguini, mi sa. Mi sa che qualcuno va eliminato, il pinguino. Non so quale. Forse questo? Eliminato? Andato nel pinguino, vai. E pure quest'altro l'eliminerei. Non so mai. Or cavallettino, non c'ho il pugno carico. Ok, chi è questo qua che lancia le cose, le mine qua? No, 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 signor Dainatron. Ti sei fatto un nemico, vedo. E si chiama Sparksado. Tu via pure. Mi dispiace, ma faccio i danni pure. Dov'è il Dainatron? Vengolo qua, vengi qua, vengi qua. Andato nel carico. Che volevi fa? Aria! Allora, è una sfida? È una sfida? Se ne troppe, se ne troppe contro Sparksado. In quattro non va bene? Sì! Vuoi di bloccare in due con i broccoli? Vabbè, tu puoi andare via pure, via. Via, 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 via. In questa volta abbiamo fatto la win, quindi siamo a bronzo 2. Più 125 e si va a 1130. La prossima partita sarà per bronzo 3. Partita per il bronzo 3. Siamo sull'Avalent, la vedo malissimo. Vado subito invisibile per non essere killato instant. Subito un dato verso di me. Non so come hanno fatto a vedermi. Porca petta, vi inizia a scaraventare pugna dappertutto. Perché se no, non penso di riuscire a sopravvivere in questa mappa dei pazzi furiosi. Dobbiamo stare attenti. C'è Chiang, che sarà un bot. Questo qua, Ugo Peter, secondo me non è un bot. Perché lo vedo abbastanza on fire. E qua ho rischiato tantissimo, ma ne valeva la pena. Joe! Attento, Joe! Eh, l'ho detto attento. No, 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 no. No, no, no. Mi dispiace, signor unicorno. Ma non era questa la strada giusta da fare. Ma Ugo Peter è rimasto da sotto. Ma perché? Allora, se saltano qua, do un pugno a qualcuno. Se saltate, parte il pugno. Questa è andata in invisibile, quindi sta arrivando sicuramente. Devo stare attento. Vai! Oh, porca petta! Non dovevo cadere! Non dovevo cadere! No, no, sì, si è buttato come un folle pazzo nella lava. Meno male, meno male. E siamo a più 125. Primo posto e andiamo a bronzo 3. Ragazzi, stiamo trajardando di brutto. Perché si fanno tutte winner. Tutti i primi posto. Boom, 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 boom. Siamo sull'Avaland ed è l'ultima partita per passare ad Argento. Difficile? Tantissimo. Perché comunque siamo messi malissimo. Esplosioni, non gli esplosioni. Ci sono i pirotecnici qua, porca miseria. Adesso non si può giocare. Cioè, pure quello che con il magnetismo mi aspira da 70 km. Cioè, incredibile. Ecco chi è quello che fa l'elettricità. Oh, eliminato? Oh, che goduria! Non ci sono più pirotecnici, ragazzi. Si gode. Con calma. C'è quello che lancia le banane. Dobbiamo ghillarlo easy. Boom! Signor bananozza. La prossima volta le banane. Tendiamocene per sé, ok? Dobbiamo stare attenti, dobbiamo stare attenti. Dobbiamo stare... Non ci provare a farti nemico lo sfarseduo. Boom! Ma... Che è successo, gattino? Che è successo? E il gattino mi dà la qualifica alla Lega Argento, intanto. Ed ecco qui i 125 punti di reputazione che ci porteranno ad Argento. Nel nuovo rango. Lo scorso assisto siamo andati campioni che è del massimo. E adesso ci possiamo ritornare con calma. Questo è l'ultimo round per andare ad Argento 2. Sai che le volte questo è Argento 2? Dove potrebbero essere, sì. Intanto diamo qualche pugno a qualcuno. No, 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 no. No, ragazzi, non ci credo. Ok, mi sono salvato per un pelo. È l'Uther Dash, quindi è abbastanza difficile la partita. Vediamo se riusciamo a chiedere pure quest'arte. Ci sono le esplosioni che non va bene. Ci sono gli artificieri, come li chiamo io. Che cos'è sta cosa che c'ho addosso, ragazzi? C'era una cosa strana. Avevo il magnetismo con un pugno, no? Cioè? Cos'è? Una nuova stregoneria questa qua. Tu via. Oh, porca vetta il pinguino rischiosissimo. Si è spaventato il pinguino. Siamo rimasti in due. Potrebbe essere la win. Pomma! È eliminato. E questo si vince. Vediamo più 125 e ci porta a Argento 2. Allora, siamo sul Laser Dash. È già complicata questa situazione. Credo sia Laser Dash questo, giusto? Ogni volta c'è confusione. Ma credo che sì, quando c'è tutte queste righe. Perché Block Dash c'è tipo la città in fondo. Sì, Laser Dash. Ok, sarà difficilissimissima questa qua. Io inizio a dare pugni. Vado anche invisibile appena posto. Perché questa qua, ragazzi, basta un colpetto per finire il laser e finisce la partita, in pratica. Ho provato qua a dargli fastidio. Non ci sono riuscito. Questo qua non l'ho aiutato. Dobbiamo arrivare per forza prima per passare a loro. Quindi non possiamo fare errori. Aspetto io. Me la vado di qua. Oddio. Ma da questo l'ho rischiato tantissimo. L'ho rischiato tantissimissimo. 12 su 15. Guarda questo tizio qua che vuole... Non hai il ghiaccio. Ma... Ai, 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 aiuto. Meno male. C'ha l'esplosione, c'ha l'esplosione. Non c'è fatto niente. Ma in che senso? Ok, andata invisibile, andata invisibile. Ma ce l'abbiamo pure l'invisibilità. Ma noi l'ho messa nel momento giusto. È la winna. Sium. Allora, non abbiamo la promozione per 10 punti? Danci, posso credere che questo è lo scam dello scam. Anzi, ho un'idea. Ecco fatto. Sistemato il problema. Siamo nuovo rango oro. Perfetto. Mi raccomando, il like per lo Sparksado che è arrancato di brutto solo in un video. Ovviamente continueremo poi il push fino a campioni. Siamo io al 28, il codice Sparks del negozio, il like, iscrizione. Ci vediamo anche su Discord. Bella!